Un saluto cari amici di Globus Television, Antonella Guglielmino, ecco le notizie di Globus Magazine, Naked, ritmi e danze balcaniche dalla Serbia per l'Alcantara Fest. Entra nel vivo all'Alcantara Fest, dodicesima edizione della rassegna itinerante della Musica Folk Award in provincia di Catania, ideata e organizzata dall'Associazione Culturale Darshan, da sempre attiva nel campo delle tradizioni musicali etniche e popolari con la direzione artistica di Mario Gulisano. Grazie alla partnership che Gulisano come membro della formazione OIDIPNOI ha stretto con Babbel Festival di Musica Internazionale che si tiene ogni anno al Lago Balaton in Ungheria, è nata la collaborazione con i serbi Naked, band serba che è un perfetto spartiacque, un mix unico tra ritmi urbani globali e le radici della world music e del free jazz di Chiara Matrice e Balcanica. Due le date della Naked per l'Alcantara Fest, il 4 agosto a Cireale e l'Indomani a piedi Monte Teneo. What's Inside, performance tra danza, teatro, arti visive. Giovedì 4 agosto alle ore 21.30 a Palazzo della Vicaria, l'Associazione Artistica e Culturale La Salerniana si esibirà in via Francesco D'Assisi a Trapani, un concept che si dipanerà tra una coreografia per la regia di Silvia Giuffré, interpreti Roberto Galbo, Silvia Giuffré. Musiche originali Giuseppe Rizio, scene e luci, Alessandro Montemaggiore, scultura Franco Montemaggiore. A partire da una riflessione sul mito della caverna di Platone e sulla differenza tra l'essere e l'apparire, Silvia Giuffré propone una performance site specific creata ad hoc per lo spazio della Vicaria che si presta ad una interazione sui generis, con il pubblico uno scambio di energia, un po' di intimità. A Lipari confronto Sottosopra col sottosegretario Faraone. Sottosopra un elenco interminabile di cosa non funziona in Sicilia e la ricetta di possibili soluzioni che spesso non richiedono neppure ingenti risorsi ma buonsenso. C'è proprio la qualità carente tra gli inquilini di Palazzo d'Orlean e Palazzo dei Normanni. Il libro Sottosopra del sottosegretario della pubblica istruzione Davide Faraone. Già nel titolo si propone come momento di rottura fra un passato poco onorevole e una prospettiva di potenzialità che ci riscatti dalla condizione di Cenerentola d'Europa. La sua è una denuncia nei confronti di chi ha retto negli ultimi 15 anni le sorti della Sicilia. Olimpiadi Rio 2016. Ecco tutte le speranze azzurre. Al via fra pochi giorni giochi della 31esima Olimpiade che si disputeranno a Rio de Janeiro in Brasile dal 5 al 21 agosto 2016. In gara per l'Italia 308 atleti, 164 uomini, 144 donne impiegnati in 28 discipline. Dalla Pellegrini a Nibali, dal Gregorio Paltrinieri a Tania Cagnotto. Una rosa di atleti candidati per le medaglie azzurre. Speriamo bene. Numa Ecos e il suo album Shady World. Valley Records e V-Promotion sono orgogliosi di annunciare la pubblicazione dell'album Shady World di Numa Ecos. Numa Ecos è una poliartista. Si muove tra poesia, musica, fotografia d'arte e pittura. È entrata in contatto con il mondo sportivo come ciclista e con quello fashion in qualità di indossatrice e fotomodella. Numa Ecos è anche autrice letteraria, avendo pubblicato Sogni di Lucida Mente, allusione e rivelazioni di un io follemente sano. E adesso il suo primo album ufficiale Shady World sarà pubblicato il 4 novembre 2016 su Etichetta Valley Records, distribuito in Italia da Audio Globe e disponibile su tutti i portali digitali. Le notizie di storia. Accadde oggi 4 agosto. Era il 1735. Libertà di stampa. Il giornalista del New York Weekly Journal, John Peter Zenger, viene assolto dall'accusa di diffamazione nei confronti del governatore di New York sulla base del fatto che aveva pubblicato notizie vere. Era il 1821. Hectinson e Alexander pubblicano il Saturday Evening Post come giornale settimanale. Era il 1848. Il Podestà di Milano firma l'arresa della città al maresciallo Radeschi dopo le 5 giornate di Milano. Era il 1859. Una sentenza della Corte di Cassazione francese vieta l'uso della lingua italiana in Corsica. Era il 1902. Apre il Greenwich Foot Tunnel sotto il Tamigi. Era il 1932. Adriano Olivetti trasforma la ING Olivetti & Co. di Ivrea nella società Olivetti. Era il 1977. Il presidente statunitense Jimmy Carter firma la legge che istituisce il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti. Era il 1997. A 122 anni e 164 giorni si spegne John Kelman, l'essere umano più longevo di tutti i tempi. Era il 2010. Golfo del Messico. Tramite l'operazione Static Kill si riesce a chiudere dopo 106 giorni la falla nella piattaforma affondata Deepwater Horizon. Il riversamento era incominciato il 20 aprile del 2010. Da Globus Magazine è tutto. A presto.